ma lo spavento che ci ha fatto prendere zion io io ci sono rimasto veramente di sasso anche perché non son pronto spiritualmente emotivamente ad un eventuale greg oden 2.0 e zion è buono è ma buono vero ma poi l'infortunio anche è stato onestamente paradossale perché gli si sono proprio aperte le scarpe una roba mi ha fatto tornare in mente non so chi di voi se le ricorda le primissime quando uscirono all'epoca and one quelle che c'erano stessa versione rossa e blu costavano relativamente poco per i tempi rispetto alle altre marche ed erano anche belle esteticamente quindi quelli della mia generazione più o meno ci siamo passati tutti da quelle and one e la maggior parte di noi ha vissuto proprio quell'esperienza cioè arrivati più o meno a metà anno gennaio febbraio queste si aprono in una maniera inspiegabile poi dopo un po dopo qualche mese anche nelle release successive and one ha risolto questo problema ma all'epoca le primissime quando proprio and one era una new entry all'interno del mercato degli accessori dell'abbigliamento cestistico e c'era questo problema me l'ha fatto tornare in mente comunque dalle prime ricostruzioni dai primi accertamenti sembra che l'infortunio sia meno grave di quello che si è temuto all'inizio vedendo le immagini però io fino a che non lo rivedo in campo zion non sto tranquillo comunque detto questo questo è un video un po particolare perché c'era essendo l'ultimo video della settimana che notoriamente è quello un po più tranquillo c'era da parlare di un po di cose allora le ho concentrate tutte in questo video numero uno per chi ha visto il video di ieri sull'all star game la top 10 ho fatto una domanda che più o meno recitava così quali sono i cinque giocatori che vorreste in un ipotetico team usa che si dovesse scontrare in un prossimo all star game contro un altrettanto ipotetico team resto del mondo e chi volete anche nei cinque del team resto del mondo è stata una domanda che ha stimolato molto il vostro interesse ci sono tante risposte lì sotto quindi ho cominciato a raccogliere i primi dati e questo è l'exit poll ossia sono i primi voti che ho raccolto dalle vostre risposte vedendole così direi che comunque sarebbe una partita niente male come quintetti ci stanno entrambi io sinceramente continuerei a vedere ancora un pochino più avanti un pochino favorito il team usa ma più che altro per un discorso anagrafico perché sono giocatori più esperti che hanno più esperienza mediamente mentre il team resto del mondo è molto più giovane però sarebbe comunque una sfida molto molto interessante se avete voglia continuate a votare la in sotto quel video che poi nei prossimi giorni arriva arriverà il resoconto la classifica definitiva i nostri preferiti qui sul canale detto questo l'altro argomento importante di cui vi volevo parlare riguarda l'oggetto in copertina nba 2k 19 ora sapete che a me interessano sempre i vostri pareri i vostri consigli i vostri commenti sono uno di quelli che se rilegge tutti i commenti per ora è abbastanza facile perché siamo relativamente pochi anche se stiamo crescendo bene mi immagino che poi vedendo canali che hanno il doppio il triplo il quadrupo il quintuplo dei miei iscritti magari in quel caso lì è già un po più difficile però per me per ora non ci sono problemi io vi leggo tutti e spesso e volentieri vi rispondo anche perché poi dalle vostre parole mi viene sempre in mente un collegamento una risposta un qualche cosa e di conseguenza tengo anche molto in considerazione quello che è il vostro parere la vostra opinione tanti sia sotto i video qui su youtube che nei vari social instagram soprattutto c'è anche una pagina facebook e da qualche giorno un account su twitter ma sono pochissimo vivi nel senso che c'è pochissima roba il grosso succede su instagram tanti mi avete fatto la domanda ma perché non porti sul canale qualche gameplay o qualche video in generale relativo a NBA 2K19 nel nostro caso è una domanda alla quale io ho sempre risposto in maniera abbastanza vaga ho sempre detto ma vedremo valuteremo questo perché ho sempre considerato nell'impronta che abbiamo dato al canale fin dai primissimi video l'aspetto videoludico dei videogiochi dei gameplay come posso spiegarmi non abbastanza passatemi il termine serio lo so che fa ridere vedendo gli occhiali e tutto il resto però l'ho sempre considerato così in realtà piano piano mi avete un po fatto riflettere su questa mia opinione perché anche l'aspetto dei videogiochi nel nostro mondo nella realtà in cui viviamo oggi cestistica e non ha una propria rilevanza conosco tante persone in effetti che banalmente nel corso degli anni si sono appassionati alla pallacanestro partendo da un background meramente videoludico cioè hanno cominciato a giocare a NBA Live NBA 2K e piano piano si sono appassionati e sono diventati dei tifosi di pallacanestro per quel giocatore quella squadra ci interessa e sinceramente anche per quanto riguarda le nostre cose qui sul canale succede spesso che facciamo qualche riferimento magari non lo so alla 2K piuttosto che EA Sports o quello che volete che lavorano anche quotidianamente mese dopo mese per sfornare dei prodotti che sono sempre più verosimili sempre più credibili e sinceramente questa cosa negli ultimi anni un pochino mi è mancata vi spiego quella che è la mia avventura videoludica io ho cominciato il primissimo videogioco dedicato alla pallacanestro che ho avuto è stato NBA Konami Pro 98 ecco ce l'ho qua me lo conservo tipo tipo reliquia anche in condizioni abbastanza devastate non so se vi ricordate questo era per Nintendo 64 che faceva all'epoca i videogiochi così stile cassetta che poi uno infilava dentro e giocava molti di voi probabilmente non l'avranno neanche mai visti comunque questo è stato il primissimo videogioco di pallacanestro che io ho avuto dopo questo per il Nintendo 64 il successivo è stato NBA Live 2000 per computer perché non avevo ancora una console vera e propria il Nintendo 64 ce l'ho avuto ma era vecchissimo insomma è durato anche poco perché poi diciamo che piano piano è stato superato dopo quello due tre anni dopo mi sono finalmente deciso e ho comprato la Playstation 2 ai tempi quindi non ho mai fatto quella scelta di parte che sento questa rivalità no Playstation e Xbox io semplicemente tutti quelli che conoscevo nel mio giro di amici avevano tutti la Playstation quindi per poter giocare anche con loro comprai la Playstation tutto lì poi mi è sempre importato poco anche dei titoli perché io grosso modo ho avuto sempre solo giochi di pallacanestro non ho comprato mai nessun altro tipo di videogioco ma sul serio e quindi più o meno NBA 2K, NBA Live uscivano sia per Playstation che per Xbox per me cambiava veramente poco ho seguito la scia degli NBA Live fino a mia memoria NBA Live 2008 quindi dal NBA Live 2003 che è stato il primo che ho avuto in copertina Jason Kidd fino a NBA Live 2008 poi dall'anno successivo ho cominciato a scegliere NBA 2K in quel caso NBA 2K9 con Kevin Garnett in copertina perché piano piano nel corso degli anni la 2K aveva superato in termini di grafica, di giocabilità e tutta una serie di aspetti NBA Live da lì NBA 2K9 io me li sono fatti tutti fino a NBA 2K17 quindi mi è mancato il 18 e il 19 nel corso di tutti questi anni da NBA Konami Pro 98 a NBA 2K17 me ne sono viste tantissime di cose cioè per farvi un esempio qui che le immagini viste ora da qui fanno sorridere ma per l'epoca questo era un giocone Michael Jordan non aveva concesso i propri diritti di immagine alla Konami per realizzare questo gioco quindi in questo gioco c'era nel quintetto dei Bulls che per l'epoca era Luke Longley, Dennis Rodman, Scottie Pippen, Ron Harper e siccome non potevano inserire Michael Jordan avevano inserito un giocatore con faccia anonima numero 23 però che si chiamava Roster Ward il quale se premevi tutta una serie di combinazioni di tasti schiacciava dal tiro libero ma anche in partita eh e c'erano dei baggoni tremendi con questo che travolgeva la gente cioè bellissimo comunque da lì me li sono fatti tutti fino al realismo quasi assoluto di NBA 2K17 da lì in poi mi dicono che comunque le cose sono anche addirittura migliorate io piano piano mi ero disintossicato però tutti questi vostri commenti tutti questi vostri consigli e richieste mi hanno fatto un po' pensare mi hanno messo un po' di curiosità addosso è chiaro che il mio modo di giocare a questi videogiochi è sempre stato molto particolare io mi sembra che non avevo neanche la connessione internet sulla Playstation cioè ce l'avevo ma la disconnettevo perché non mi piaceva che cambiassero le valutazioni dei giocatori durante l'anno pensate un po' ho pensato, avrei pensato a una serie di soluzioni che potrei adottare per portare qualche video qui sul canale qualche video di gameplay a me non piacciono i vari non so neanche come si chiamano career non so mai team non so come si chiamano quelli dove c'hai l'omino che deve comprare i vestiti andare in palestra assolutamente non è il mio stile però avrei in mente di fare un qualche cosa che esula un attimo dal gioco e che però ovviamente riguarda una buona fetta di gameplay non vi svelo altro volevo soltanto sapere se è un qualche cosa che vi potrebbe interessare cadenza settimanale? bisettimanale? rimarrebbe comunque una rubrica abbastanza marginale all'interno del canale perché questo è un canale che ha tutt'altra impronta per cui non voglio dedicare troppo spazio alla parte videoludica però un video a settimana o anche uno ogni due secondo me potrebbe essere un'idea ripeto sarebbe ho già un po' le idee chiare non una cosa convenzionale non una cosa prestabilita non una cosa fatta seguendo delle modalità di gioco del gioco stesso ma sarebbe tutta un'altra cosa che ho in mente che spero vi possa anche incuriosire comunque fatemi sapere secondo me è un possibile scenario un possibile sbocco una mini rubrica di questo canale che potrebbe avere un senso questo perché l'aspetto videoludico piano piano anche negli ultimi anni ha cominciato ad avere sempre più importanza e sinceramente ignorarlo completamente proprio per partito preso per sentirsi no? superiori intellettualmente non mi sembra una posizione corretta in qualche misura in piccola parte ma secondo me potrebbe essere interessante trattare l'argomento fatemi sapere bene 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 Grazie a tutti.